Novartis Pharma si è giudicato il primo posto nella categoria del patient support program con il progetto programma di supporto al paziente psoriasico psolife care cosa rappresenta per voi questa vittoria e soprattutto quali sono le caratteristiche di questo progetto che è stato selezionato dai medici e dalla giuria è stato giudicato come il migliore nella sua categoria ossia del patient support program siamo molto orgogliosi insomma di questo riconoscimento che va assolutamente in linea con la filosofia della dell'azienda di dare risposte concrete ai bisogni dei pazienti quindi nasce psolife care proprio dall'attenzione di Novartis ai need dei dei pazienti con la psoriasi che vivono quotidianamente l'esperienza di malattia l'obiettivo di questo programma è proprio quello di fornire delle soluzioni che favoriscano l'aderenza terapeutica del paziente e ottimizzino anche proprio la gestione della della patologia diciamo che è strutturato in diversi si basa su diverse soluzioni che possono essere eh customizzate a seconda delle delle esigenze dei dei pazienti eh quindi un supporto da remoto per aiutare i pazienti nella corretta somministrazione del farmaco e ricordare le raccomandazioni dello specialista piuttosto che delle sessioni dedicate con eh personale sanitario proprio per aiutare il paziente nella corretta somministrazione della terapia e poi delle eh visite ad hoc eh di cui i pazienti possono usufruire ehm per avendo sostanzialmente un approccio olistico eh alla gestione della della patologia la psoriasi è una patologia mh non solo della pelle ma dove ci sono diverse comorbidità e spesso è associata anche a disagio psicologico quindi c'è bisogno eh di una di un aiuto e di un supporto ulteriore soprattutto per i pazienti più fragili. Quali sono i risultati di questo progetto PsoLife Care? Allora PsoLife ehm è stato lanciato nel 2017 e dal 2017 abbiamo supportato col programma più di 550 pazienti psoriasici sono state eh erogate più di 1700 visite specialistiche attività di counseling ehm i benefici più importanti che abbiamo osservato nei nei pazienti gestiti dal dal programma eh sono stati sicuramente una maggiore compliance e una maggiore consapevolezza eh nella gestione della patologia e eh tramite anche dei questionari che eroghiamo eh ciclicamente abbiamo osservato un miglioramento complessivo della qualità di vita eh tra l'altro dato molto importante qualità di vita è dato eh positivo che perdura nel tempo eh altro aspetto importante è che eh tutti i risultati che abbiamo raccolto da questa esperienza di questo programma eh saranno oggetto di una pubblicazione scientifica che abbiamo sottomesso in queste settimane su una rivista indicizzata. Un progetto olistico che è espressione dell'attenzione di Novartis verso una patologia cronica complessa come la psoriasi e che cosa rappresenta questo per l'azienda? Sì correttissimo la la psoriasi si innesta un pochettino in tra tutte le patologie che gestiamo come come Novartis eh che hanno il focus sulla cronicità del paziente. Da un po' di anni eh ci siamo posti la domanda di come essere vicini ai nostri pazienti non soltanto con delle soluzioni terapeutiche ma anche creano una partnership portando soluzioni per migliorare la gestione del paziente perché eh diciamo che anche questo periodo ci ha insegnato una una grande una grande verità eh il il paziente va gestito a 360 gradi non basta solamente una gestione di tipo farmacologico ma serve anche un supporto con dei servizi innovativi dei servizi complessi come citavate voi eh che accompagnano il paziente non solamente all'interno dell'ospedale ma anche successivamente nella proprio nel proprio domicilio. Quindi PSOLIFCARE eh racchiude un po' tutti questi obiettivi eh accompagnando il paziente psoriasico che eh non è solamente un paziente che ha un problema visivo a livello di pelle ma la psoriasica è una patologia molto molto complessa cronica eh che porta un questi pazienti non solamente a un disagio di tipo psicologico ma anche un disagio dal punto di vista eh fisico dal punto di vista patologico a 360 gradi. Questi pazienti hanno bisogno di un supporto e l'ospedale li aiuta nella fase acuta ma grazie all'OPPSOLIFCARE possiamo accompagnarli anche nella loro cronicità. Quanto è importante per voi eh constatare che i medici abbiano percepito con grande entusiasmo questo progetto tanto da nominarlo come eccellente nell'ambito del patient support program? Beh diciamo che questo è sicuramente da ancora di più valore aggiunto cioè avere un un riconoscimento ehm che che arriva direttamente da dai medici a cui appunto spetta in concreto la la cura dei pazienti eh sicuramente è insomma un un riconoscimento che ha ancora più più valore quindi ehm questo premio mh è completamente allineato proprio alla filosofia di dell'azienda cioè quella comunque di ehm affermare la centralità del paziente di costruire progetti che portino un beneficio eh per la salute appunto della del paziente e eh che diano valore aggiunto a tutto il sistema il sistema salute quindi siamo eh sicuramente ehm molto molto contenti eh di di questa di questo di questo riconoscimento quindi particolarmente orgoglioso è un riconoscimento appunto che anche cogli effettivamente l'impegno l'impegno dell'azienda a 360 gradi con far amici innovativi ma anche con soluzioni eh che appunto creino valore aggiunto al sistema. La pandemia ha rappresentato un momento drammatico per l'Italia e non solo però ci ha anche insegnato tante cose e soprattutto ha rappresentato un momento di accelerazione dell'innovatività. Quanto questo ha impattato su Nuovo Artis e sul vostro modo di ehm concepire i progetti dedicati alla salute dei pazienti? Grazie della domanda ehm devo devo dirti che già nel periodo dopo la pandemia Novo Artis stava mettendo in campo un processo di trasformazione eh una trasformazione che ha una visione nel medio lungo termine quella di eh essere del protagonista del cambiamento del sistema salute, del sistema paese. Ehm già eh da un paio d'anni stiamo collaborando anche con diversi istituti nazionali, ne cito solamente uno eh lo studio Ambrosetti con i quali abbiamo mh abbiamo dimostrato, abbiamo voluto condividere con il paese Italia quanto Novo Artis abbia un impatto ovviamente positivo sul sistema salute a 360 gradi. La pandemia non ha fatto altro che accelerare questo processo di trasformazione eh di Novo Artis come protagonista del cambiamento sia con servizi innovativi quindi tutto il tema di eh digitalizzazione e cronicità del 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 paziente ma adesso secondo me inizia il periodo molto importante quello della ripresa e in vista soprattutto del piano nazionale di ripartenza e resilienza e l'azienda farmaceutica che è un attore protagonista del servizio sanitario nazionale del sistema eh paese deve essere protagonista e Novo Artis vuole essere protagonista, l'Opso Life ne è solamente un esempio di tanti servizi che stiamo mettendo in campo per far sì di ehm far vedere il farmaceutico non solamente come un un attore che produce salute tramite dei prodotti di altissima qualità come quelli che ha Novo Artis ma come servizi. Quindi con tutti gli attori che sono i per tutti i nostri pazienti clinici ma anche il tutta la classe politica Novo Artis c'è in questo periodo di cambiamento di ripresa e di trasformazione.